dobbiamo fare gli auguri ai nostri amici e domani giochiamo contro lo spallettone che ne pensi una cosa fai gli auguri a tutti allora domani lo spallettone se finimmi va stanno pochi poliscia proprio che lo la lucide ricarruzziere immagini bella lucida tanti auguri a tutti e buon anno buon buon natale buon anno pure giusto romperò quazzo non mi fai passi il posto e di mano spallettone passiamo strade polisci andate e ritorno facciamo a napoli roma in capisci quando dicere ad avvenire a milano nata venire a milano ci vediamo a milano e già siamo a milano e ma già sarà meno 8 però meno 8 domani meno 11 no no stanno facendo i buffoni pure in mezzo da via incontro cose domani alle 11 vedremo dove sta lo spallettone su catogno rimane a ringrazio napoli si stanno pochi rimane proprio un pandoro mezzo tischio facciamo un pandoro corretto e per gli amici giuendini sempre la solita come amici giuendini buon natale a tutti buon natale a tutti buona fine buon inizio della famosa e cio ok ha solo questo si è solo qui ci è natale potresti potresti essere un po più buono sono molto buono appena inizia il 2019 ci ha immediatamente subito 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 non si risolve il problema non si risolverà mai tu dici sia 2019 con tutti il cuore che è natale ricordiamo che devono giocare contro il famoso rivale il famoso rivale di all'altretico tu dici vabbè domani giocherà la vedi quella partita no io ne bego a chi si cos'è non mi ripeto a chi si cos'è io me ne esco me bego mi finirebbero peggio di solo risultato e poi dopo ti si commenterà già fatto ma sembra bucciato si 2 0 ok un bacio ai diffusi napoletani invece un bacio ai diffusi napoletani un bacio a tutti e forza napoli li vogliamo bene li vogliamo bene sempre